La vicenda del San Giovanni Bosco e della Napoliono per noi sarà un simbolo di quella che è la trasparenza amministrativa nostra e l'ignavia e l'irresponsabilità di quelli che dovrebbero tutelare i cittadini rispetto ai delinquenti e non lo hanno fatto per dieci anni. Faremo la radiografia degli ultimi dieci anni, altro che con missione d'accesso. Di questo avremo modo di parlare, ho voluto solo fare questa parentesi per dirvi che noi lavoreremo in silenzio, mai fare pubblicità gratuita, mai perdere tempo e non farsi distrarre da queste immense idiozie. Ho ricordato una volta qual è la tecnica di quelli che pensano di farsi pubblicità cercando di litigare con te anche quando hai altro da fare. C'è una poesia che vi ripeto ancora una volta di trilussa. Sono due righe, si chiama la lumachella della vanagloria, cioè c'è una lumaca che striscia sopra un obelisco e immagina che per questo solo motivo si carichi di valore storico come l'obelisco. dice trilussa la lumachella della vanagloria che era strisciata sopra un obelisco guardò la bava e disse già capisco che lascerò un'impronta nella storia. Cioè ci sono tante lumache che pensano di strusciarsi, di fare polemiche e pensano che in questo modo si danno un'importanza. Somari sono, somari restano, nullità sono, nullità restano. Chiudiamo la parentesi e pensiamo alle cose serie. Ho perso qualche minuto per dirvi che anche per il futuro ci troverete silenziosi di fronte a tutte le porcherie e le aggressioni mediatiche che oggi trovano un motivo in più. Ma questa volta non nell'inefficienza. Oggi cercheranno di colpirci per la troppa efficienza che abbiamo dimostrato. Perché nessuno si aspettava che la Campania oggi potesse presentarsi come la regione più efficiente d'Italia pur avendo avuto i mezzi più ridotti rispetto a tutte le regioni d'Italia. Chiudiamo dunque questa vicenda. Ho fatto solo un appunto ai miei collaboratori perché la trasmissione era lunedì e lunedì in contemporanea c'era niente di meno che il film L'ultimo samurai con Tom Cruise. Ma come si fa ad essere così masochisti da andare a vedere la trasmissionaccia anziché vedere L'ultimo samurai? Meraviglioso, coinvolgente, che meraviglia. Valga per il futuro. Non siate così depravati da perdervi a presuole l'escemenza.